Sì ma io per questo atto di scomodità sento subito piano e piano sento già così qualcosa, senti? aspetta, aspetta cazzo aspetta devo piegare ha fatto croc il ginocchio hai sentito? si, si, ma ha fatto croc no, ma hai sentito? croc, si? va bene, vedi perchè funziona anche qua c'è rotta, c'è rotta reggamenti neanche non senti dolore no, no, no ma già così va bene basta, aspetta ok fai un triangolo o, ecco questo il fatto va 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 ok 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 guarda concentrati a postarimi, agar non semplici gamba Passi, passi, oi destra avvicini E' l'acqua da qui c'è gara Alì stai facili C'è troppo avvicino Prima guarda, di la c'è la e prego Non scappamai Qua deve essere molto più attacca Stringi subito Stringi gamba E guarda deve fare così Qua deve essere molto più attacca E lo calenco da gamba, da Non ciò che deve essere attacca Si Oh, vedi basta, fai pronto Questa sarà una vittoria in 5 secondi 5 secondi Putevi fare questa cosa con quell'altro Con questo vuoi Devi passare, vedi Vuoi passare Vedi mi dipendo Troppo lontano Si Non si Vedi 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 Lontano Si questi sono istinti che sono caricati dentro, quello che io ti dicevo ah, di quel pugno? no, no, dico, questi istinti sono già precaricati, tu vedi, non hai imparato questo, non siamo solo vedi, tu senti, e questo già è il senso di predatore, quando tu vuoi sangue e neanche non rendi conto, tu senti che voglia di essere una corpo a livello istintivo è vero? sì, 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 questi sono precaricati, per quello senti, tipo, basta aprire questi istinti, neanche non devi imparare niente però aprire, devi sapere chi ha di avere, per aprire questi istinti oh, vedi, ho un po' di qui, qua, concentrati sui posizioni un po' di un momento così, con spalla, prova a carezzare spalla un po' di qua, spalla, girare spalla spalla, che vuoi dire, vedi, avesse solo un moto si tirata, sì? sì, quando tu vai a lato, mi dai comodità adesso, sai cosa voglio di te? adesso voglio che tutti esplodino in un modo brutale, basta che non mi rompi qua io voglio, no, 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 io voglio che tu chiudi, chiudi io voglio che tu adesso immagini che sei in gara, vedi? e prova a non tirare, ma prova a chiudere bene, non brutto, no, 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 vedi? adesso mi fai uscire, devi chiudere oh, rilasci chiudi oh, rilasci chiudi è facile vedi? di qua quando tu hai chiuso io non ce l'ho mai libertà di movimento di osso e da questo momento anche ti, coloro, rilasci sì non ciudie, non ciudie, vai vai